Procede senza sosta l'iter per predisporre il progetto definitivo relativo all'intervento per il tanto atteso recupero del teatro romano a Teramo, situazione su cui il sindaco ha annunciato dopo l'incontro con i rappresentanti della soprintendenza regionale archeologica all'architetto Gironamo Belluomo che entro la fine dell'anno il progetto andrà in gara ad appalto. Un percorso rispetto al quale io ho chiesto tempi certi, definiti, anche perché noi abbiamo un finanziamento che abbiamo anche implementato con un milione di euro in più grazie alla SUS ma che deve rispettare alcune scadenze. Abbiamo trovato quindi un accordo sul percorso, anche sullo spirito del progetto restano un paio di questioni che la sovrintendenza ovviamente dovrà vedere, in particolare la copertura e la protezione dei resti e l'aspetto legato al restauro, però insomma c'è stato un punto di intesa su un aspetto che in questa fase è molto importante perché va ribadito che non esiste alcun progetto alternativo a questo. Il recupero pieno di funzione del teatro romano passa per questa idea di progettazione, poi verrà rimodulata in fase definitiva esecutiva, ma un recupero che passa attraverso la demolizione di due palazzi, Adamoli e Salvoni. La copertura però al Comune non piace come a molti cittadini? Allora la protezione è necessaria perché comunque si tratta di proteggere dei resti che rischiano appunto di essere deteriorati nel corso del tempo. Il problema è come fare la copertura. Noi sulla copertura diciamo così pesante abbiamo già detto di no, è stato un primo atto, uno dei primi atti relativi al teatro romano che abbiamo approvato e su questo c'è una linea di condivisione sia con la sovrintendenza che con i progettisti, quindi non ci sarà quella sovrastruttura che abbiamo visto un anno e mezzo fa nel progetto della precedente amministrazione. Dovrà essere una copertura molto leggera, molto non impattante, che però consenta di svolgere la funzione, su questo siamo tutti d'accordo, una protezione che consente appunto di proteggere e custodire i resti.